nome e cognome vieri marotta davide poltroneri dove sei nato sono nato a firenze il 19 novembre a recco provincia di genova età ho 22 anni 31 squadra e ruolo playmaker dell'enic firenze fiorentina basket guardia la qual è il tuo piatto preferito mi piace la pasta e la pizza ce ne son parecchio è una domanda abbastanza difficile diciamo la lasagna il tuo campione di basket preferito kobe bryant kobe bryant dici il nome di un tuo compagno di squadra imbarazzante lui sa perché diego terenzi però non ve lo posso dire davide rosignoli il tuo maggior successo nel basket il mio maggior successo è stato iniziare a giocare a basket a sei anni in questa società e arrivare fino a giocare in prima squadra esserne il capitano e vincere l'anno scorso il campionato e giocare in serie b la promozione di a2 a trento anche se non non sono stato tanto partecipe e se no come seconda le promozioni serie b punto di forza della tua squadra la gioventù e il gruppo e l'entusiasmo sicuramente l'intensità e la comunque la capacità di non mollare mai punto debole della tua squadra l'ingenuità e la voglia di di far troppo forse a volte siamo troppo spreconi in alcune situazioni non siamo abbastanza cinici cosa apprezzi dei tuoi avversari i miei avversari sono una squadra forte che sta disputando un grande campionato però non per questo l'invidio sono un ottimo gruppo da quello che posso intuire da fuori e penso che sia una squadra comunque che lotta parecchio e hanno comunque anche dei giocatori con delle buone qualità quindi sono una squadra temibile sicuramente come finirà questo campionato questo campionato sarà una lotta fino all'ultima giornata e lo testimoniano le varie sconfitte anche di squadre più forti per cui è difficile fare un pronostico per noi spero nel migliore dei modi di riuscire a trovare un piazzamento di riuscire che riusciamo a trovare un piazzamento nel playoff abbastanza buono che ci permetta da di poter andare avanti il più possibile due aggettivi per questa stagione difficile e avvincente stravagante e intensa la cosa più bella del derby la cosa più bella è l'entusiasmo lo stimolo che una partita del genere ti dà e soprattutto da a dei ragazzi come noi che sono della città di Firenze bella aver la possibilità di giocare in una città come Firenze che non è comunque abituata avere delle partite di palacanestro comunque a livello importante è sicuramente motivo d'orgoglio penso per tutti quindi il pubblico penso mi auguro che ci sia parecchia gente a vedere la partita sabato quindi questo penso che l'adrenalina l'atmosfera che si respira durante un derby sia sempre qualcosa di speciale riti scaramantici prima della gara ne ho diritti scaramantici però non posso dirvi vi dico solo che ho una routine ma ho diciamo una routine non è una vera e propria non è una vera e propria scaramanzia più che altro una routine fare determinate cose in un determinato momento con del tempo preciso o comunque cercare di dare una sequenzialità appunto all'approccio alla partita altro niente di che che significa per te Firenze Firenze è la mia città ho avuto modo di vivere lontano da Firenze ma non c'è niente come Firenze Firenze significa comunque tanto perché io sono stato qua già anni fa mi ero trovato comunque bene anche se la stagione è stata molto difficoltosa e per me cercare di portare la palacanestro a Firenze comunque a un buon livello cercando ovviamente di di salire o comunque di andare oltre negli anni magari sarebbe un motivo d'orgoglio quindi sarei onorato di poter avere questa questa opportunità pensi che gare come questa aiutino il basket in città sicuramente sì un'occasione per la città e soprattutto per il basket a Firenze sarà seguita da tantissime persone sono sicuro che il palazzetto sarà pieno e per noi sarà una bella emozione penso di sì anche se sento a volte parecchie scontri mi raccontano di scontri verbali però sì penso che faccia bene a livello per la palacanestro quindi ci sta che il derby ci siano gli scontri verbali sui social che però fa parte del gioco quindi penso che faccia bene fai una critica agli avversari posso criticarli di aver perso a oleggio che per noi era importante e anche la sconfitta loro a cecina che per noi era importante potrebbero vincere qualche parità in più sono troppo fiorentino meglio dai meglio non lo so una delle due fai un augurio agli avversari mi auguro sia una bella partita un bello spettacolo per i tifosi sugli spalti e che sia una partita corretta in bocca al lupo per il proseguire la stagione sicuramente spero che si salvino che riescano a salvarsi e ovviamente domenica sabato però non possono vincere come finirà il prossimo derby a san marcellino vincerà la squadra che lotterà fino in fondo ho appena detto dovrebbe dovremmo spero di vincere quindi spero che la fiorentina basca riesca a portare a casa il secondo derby di quest'anno quanti punti farai nel derby ma non lo so e spero soltanto di poter aiutare i miei compagni a fare una bella prestazione se potessi saperlo sarebbe sarei un mago però spero quelli che servono per poter portare a casa la vittoria ok abbiamo concluso ora saluta l'altro ciao poltro ciao via e rimbocca al lupo quel sabato